Dov'è Tana Steele, Eric? Siete vicino. Secondo il GPS si trova nel Grand Central Market. Oh, sì? Ma ci stiamo entrando in questo momento. È come cercare Waldo. Chi è Waldo? Dov'è Waldo? Un libro per bambini. È un ragazzo goffo con una maglia a righe bianche e rosse. Non conosci Waldo? Sembra molto patriottico. Senti, questa storia è un'occasione per Dana. Può fruttarlo un posto da conduttrice. Già, grazie a un attacco terroristico sul suolo americano. Ogni giornalista deve qualcosa al mare. Che cos'è? Un aforisma di Etty? Jean de la Fontaine, poeta francese del 1600. Conosci afficchi poeti francesi e non conosci Waldo. Tornando a Dana è il migliore scoop della sua vita. Ehi. Perché è qui senza la sua truppa? Un incontro in un affollato luogo pubblico. Forse è lui la sua vera. No, 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 devi qua. No, non lo farò. No! Agenti federali! Ho un coltello! No! Se la caverà? È morta.